Cosa è successo a Fabio Obratore? In quest'ultime ore si è diffusa sul web una foto postata sul profilo social dell'imprenditore, un selfie insieme a sua moglie Elisabetta Gregoraci che sta sollevando molti interrogativi. Fabio Obratore ha fatto un lifting? La foto mostra l'ex team manager di Formula 1 con un aspetto completamente diverso. I moltissimi followers dei profili social hanno commentato chiedendogli chi sia il chirurgo plastico, mentre qualcuno ha notato una somiglianza proprio con Franco Califano. Già un po' di tempo fa sembrava avere qualche ruga in meno, ma all'insinuazione di un lifting Fabio Obratore ha risposto ad aver messo su qualche chilo e di conseguenza ad avere la pelle del viso più tesa. Ora però i chili sono drasticamente diminuiti e proprio per questo dovrebbe avere la pelle più segnata. Invece Fabio Obratore appare molto ringiovanito. Di certo non dimostra su 65 anni ben 30 in più della Gregoraci. Anche Settimana Le Chidi, diretta da Alfonso Signorini, ha dedicato un servizio a Obratore, con le foto del prima e del dopo. La cosa che più ha stupito è la velocità con cui Obratore ha perso chili ed anni. Infatti solo qualche settimana fa appariva completamente diverso. Chi sa come risponderà stavolta all'insinuazione sul lifting?